Vi porto con me a fare l'ultima spesa al Conad qua in Italia Tra pochissimi giorni infatti mi sarò ufficialmente trasferita in Inghilterra E dovrò salutare per un po' la mia amata Venezia Prima tappa al Bancomat e poi eccomi arrivata al mio Conad di fiducia Mi mancherai amore mio Vabbè la spesa era normale, anzi ho fatto pochissima spesa perché devo restare pochissimi giorni Ma tutto questo pane, tutti questi dolci mi mancheranno tantissimo E anche i miei amati gelati del reparto surgelati Poi mi sono accorta che c'è ancora la collezione dei coltelli Raga ma chi è che si prende i coltelli? Cioè il goloso, il fornaio Non lo so sono tutti i nostri fratelli questi coltelli Ed eccomi qua uscita soddisfatta E ciao ciao Conad mi mancherai un sacco